C'è una cosa che deve sapere. Sono esperto di un tipo di sicurezza molto specifico. La sicurezza del subconscio. Stiamo parlando di sogni. Il signor Cobb ha un'offerta di lavoro che vorrebbe discutere con te. Lei si occupa di formazione. Non esattamente. Noi creiamo il mondo del sogno. Portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con i suoi segreti. Poi vi infiltrate e li rubate. Beh, non è strettamente legale. Si chiama Inception. Innesto. Sono pronto. Forse so come tornare a casa. E quest'ultima operazione è il modo per arrivarci. I sogni sembrano reali quando ci sei dentro. Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano. era una tua responsabilità. Non eravamo pronti! Il sogno sta crollando. Ho tutto sotto controllo. Sarebbe grave il contrario. Non devi aver paura di sognare con un'arma più grossa. Sarebbe a casa. Sarebbe a casa. Sarebbe... Sarebbe...